Francesco Bombaggi è recuperato e salvo imprevisti partirà per la Puglia, dove domani pomeriggio il Teramo affronterà il Monopoli. Insomma, la guarigione, come aveva prospettato Tedino, sperando nell'arrivo di uno sciamano, pare essersi avverata. E l'ex Pordenone potrebbe essere titolare dal primo minuto al Veneziani domani pomeriggio. Qualche problema in meno del previsto dunque per il tecnico trevigiano, perché Cianci potrebbe stringere i denti ed essere della partita. L'emergenza non è definitivamente rientrata, ma è meno grave del previsto rispetto a ieri, quando l'allenatore aveva escluso categoricamente l'impiego di Bombaggi. L'avversario di quelli tosti, il 3-5-2 di Beppe Scienza, assomiglia davvero poco a quello che il diavolo ha affrontato mercoledì sera, incrociando le spade con la Viterbese, perché Triarico e Donnarumma sono frecce affilatissime sugli esterni. Jefferson e Fella, che ha riposato col Bari, pericoli per la difesa bianco-rossa, che ancora non sa se Cristini sarà della partita. Sì, loro hanno dei giocatori, più che solo offensivi, hanno anche una gamba completamente diversa. Perché se gioca Tazzer, che non so se sia convocato a destra, è un altro giocatore che ha un fisico veramente da 200 metrista, c'è un fisico con una corsa importante, una presenza e un piede buono, ma è un grande atleta. Donnarumma di là è un giocatore che abbina la qualità, la struttura e la corsa. È un giocatore molto forte, è un giocatore che non mi vergogno a dire che è stato un giocatore anche chiesto da noi e ci hanno detto di no, quindi a grande stima perché lo conosco da quando era a Mantola. È un giocatore molto importante, è inutile negarlo, ma è una squadra che vive di grande entusiasmo, di grande corsa e di grande fraseggio. Sono giocatori, non so come spiegarvi, sono irritanti perché hanno quelle qualità immediate di risposta fisico-tecnica che ti mette in difficoltà su un campo difficile con un pubblico che comunque gli dà una mano. Per noi è una brutta partita da fare, come sono tutte. Insomma, se andavamo con qualche punto in più eravamo più contenti per giocare una partita per vincere, ma con un equilibrio diverso.